Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Roberto Di Giacomo. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana in FIPILI. Ricordiamo che in FIPILI per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze fino all'8 dicembre. Tratto chiuso per lavori al km 0 della SP224 di Marina di Pisa, nel prese dello svingolo di via Quaglierina Livorno in FIPILI per frana al km 79 865. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra Sanca, Sciano Nord e Firenze in Prunete in direzione Firenze. La statale 64 porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. A Firenze in piazza Mattei restringimenti di carreggiata dal 22 maggio al 1 giugno per allaccio Toscana Energia. Molso in Toscana Info in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!